Stendi la tua mano su di noi, signore! C'è Jasmine che vuole fare una testimonianza e farvi vedere un video. C'è il 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 video che ha montato le foto e il video. C'è 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 il video. Forza. C'è il video. C'è il video. E lei ha detto. Ho fatto questa foto. Mentre mia sorella stava morendo. Perché sapevo che Gesù l'avrebbe guarita. Per raccontare al mondo. Io ho il giornale. Dove c'è la testimonianza di sua sorella. Completamente guarita in 24 ore. Questa donna ha preso la sua foto. Solo la sua foto. L'ha portata in chiesa. In questo grande ministerio di guarigione. E ha pregato dicendo Dio tu lo puoi fare. E tornate la sorella era guarita. E cose così. Cioè. Quindi trovi in ogni angolo. E sei là che dice. Sì. Da quasi di essere in cielo. E loro che ci dicevano. Noi comunque stiamo pregando per un vero risveglio. Io dicevo. Una goccia del vostro risveglio. Ci fa inondare. Cioè. Moriamo anegati nella vostra goccia. E loro proprio non hanno idea. Non hanno idea. Però. Quando siamo arrivati proprio il giorno che siamo arrivati. Un giorno prima c'era stata la marcia per Gesù. Dove avevano bloccato la città. Tre milioni di persone. Per la strada di una città. Solo di una. Che era San Paolo. Che gridavano per le strade. Gesù Cristo è il Signore. Ed è in Brasile un giorno libero. Perché c'è la marcia per Gesù. E hanno dovuto dichiarare giorno di vacanza. Perché non ci stavano le macchine. Troppa gente. Non è magnifico. Non vi sembra che vi sto raccontando una storia. Che mi dice ho letto in un libro. Invece no. Sono cose reali. Cose che abbiamo visto. Senza troppa esagerazione. C'è stato. Questo pastore. Molto carino. Che ha predicato. E Dio lo sta usando davvero tanto. Dove non imponeva neanche le mani. Sapete. Non pregava per la gente. Niente. Insieme diceva. Signore grazie. Tu sei un buon Dio. Noi ti adoriamo. Guarisce il tuo popolo. Che è stato guarito? Io. Io così. Però. Che cosa vediamo? Che dove c'è fede. Dio si muove. Amen. Dove c'è fede. Dove c'è preghiera. Dove c'è gente seria con Dio. Pensate che addirittura. La maggior parte delle chiese. Là. Non tutte. Al nord lo usano. Non usano neanche le cellule. Fanno i culti. Lunedì per la guarigione. Martedì per la famiglia. Mercoledì per i miracoli. E le persone vanno a cercare Dio. Non vanno a cercare un altro. Non c'è nessuno che dice dai come stai. Parliamo. Vediamo. È un po' una cosa molto nostra. Che vogliamo sempre essere curati da tutti. E io voglio parlarvi oggi di questo. Infatti voglio parlarvi oggi della preghiera. E ho preparato questa predicazione su una frase. Che ho sentito da Miley's Morrow. Miley's Morrow è un predicatore molto conosciuto negli Stati Uniti. Che era in questa conferenza. E lui ha insegnato i pastori. Quindi delle rivelazioni bellissime. Fino a che a un punto. Lui ha scioccato me e tutti i pastori con una cosa che io personalmente non avevo mai visto nella Bibbia. E io ho detto io predicherò su questa frase che tu hai detto. E lui ha detto wow fallo. E lui ci ha sfidato un giorno a trovare nella Bibbia, nei Vangeli, un solo passaggio dove Gesù ha pregato con i suoi discepoli. E lui ha detto così. Se voi mi troverete un passaggio dove Gesù ha pregato con i suoi discepoli io smetto di fare il predicatore. Lui è il più grande predicatore delle Bahamas. Lui praticamente consiglia il presidente delle Bahamas. Sapete che le Bahamas quasi tutte sono credenti. E ci ha sfidato e ha detto fatemi vedere in uno dei Vangeli Gesù che si mette a pregare con i suoi discepoli. E ci ha guardati noi eravamo in passaggio e ha detto siete scioccati e noi. Sì. E abbiamo detto non c'è. C'è solo un momento dove loro chiedono a Gesù come pregare. E noi troveremo solo dei momenti dove Gesù prega da solo. E la Bibbia dice nel Vangelo di Marco che lui si alzava presto al mattino per pregare. Poi noi vediamo sempre Gesù nei mercati. E i mercati aprivano alle sette e otto come da noi. E pensate che l'alba in Palestina lui ci spiegava che inizia alle quattro. Quindi gli stessi ebrei che studiano la parola di Dio. Dicono che quando una persona dice che si alza al mattino a pregare per loro il mattino sono le quattro del mattino. Quindi Gesù pregava almeno dalle tre alle quattro ore tutti i giorni da solo. E noi non troviamo, troviamo solo negli atti degli apostoli dove i discepoli inizieranno a pregare insieme. Ma noi non troviamo mai Gesù che ha insegnato tante cose. Non troviamo Gesù che dice dai ok prendiamoci per mano adesso e preghiamo tutti insieme. E lui ci ha fatto questa domanda e ci ha detto perché. E ci ha detto perché noi non troviamo i discepoli che dicono visto che hanno visto Gesù risuscitare i morti. E non hanno mai detto signore insegnaci a risuscitare i morti. Non è una cosa interessante questa? Perché hanno visto Gesù camminare sulle acque e non hanno detto signore insegnaci a camminare sulle acque. Perché hanno visto Gesù moltiplicare i panni e i pesci e non hanno detto signore insegnaci a moltiplicare i panni e i pesci. E ci ha portato questo passaggio in Lucca dove io porterò a voi. Lucca capitolo 11. Iniziamo dal verso 1. Gesù si trovava in un certo luogo a pregare e quando ebbe finito. Dite com'è quando ebbe finito. Uno dei suoi discepoli gli disse signore insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato i suoi discepoli. E gli disse loro quando pregate dite padre nostro. E qua lui inizia a insegnare a pregare. Ma se voi notate dice che Gesù si trovava in un certo luogo. Quando lui ebbe finito non quando loro ebbero finito di pregare. Quando lui ha finito di pregare un discepolo si avvicina e dice ci insegna a pregare. Ed è l'unica cosa che davvero i discepoli hanno chiesto a Gesù di fare. E questo per insegnarci che la preghiera in assoluto più importante della nostra vita è quella che noi facciamo soli alla presenza di Dio. Infatti in questo passaggio più avanti Gesù dirà quando pregate entrate nella vostra camera laddove nessuno vi vede ma il padre vostro vi vede e pregate e parlate con lui. E la domanda è perché non hanno mai pregato con lui ma hanno chiesto Gesù insegnaci a pregare. Noi pensiamo che questa preghiera sia una preghiera per fare insieme. Gesù stava insegnando a pregare personalmente a fare una preghiera tra noi e Dio e la verità è che molte persone sottovalutano la potenza della preghiera. Allora noi veniamo di domenica a pregare insieme vogliamo ascoltare la parola di Dio ma non c'è nella Bibbia una predicate di continuo. C'è questo passaggio nella Bibbia? No. Non c'è nella Bibbia fate la lode tutte le domeniche. C'è invece? Lodate di continuo. Però c'è invece qualcosa dove Gesù dice pregate incessantemente. L'unica cosa che lui ci ha detto di fare è di non smettere mai di pregare, di pregare di continuo, di non smettere mai di continuamente rivolgere la nostra preghiera a Dio con ringraziamento, con lode, con adorazione, con azione di grazie, con ogni tipo di preghiera ma rivolgerci direttamente a lui. E Miley's Morrow diceva questo. Sapete perché la gente vuole tanto che noi preghiamo per loro? Perché la gente non prega. La verità è che quando noi preghiamo noi avremo poco bisogno della preghiera degli altri. Ma pastore stai dicendo che non dobbiamo pregare insieme? No, nel Nuovo Testamento la Chiesa veniva in aiuto alle persone e sicuramente noi aiutiamo le persone a pregare perché probabilmente loro fanno fatica e non hanno o la fede necessaria in quel momento. E quindi noi veniamo ad aiutare le persone a pregare ma se noi davvero aiutiamo la gente dobbiamo arrivare a un punto dove quelle persone sono indipendenti e possono ricevere da Dio personalmente perché Dio ha creato solo un intermediario che è Gesù Cristo. Non è un pastore, un prete, un santo, no. Lui ha detto c'è un, un unico intercessore, un unico mediatore, lo dirà Paolo a Timotio e dice questo unico mediatore è Gesù Cristo. Negli Atti degli Apostoli dirà ancora c'è stato dato solo un nome sotto il cielo nel quale noi possiamo essere salvati ed è il nome di Gesù Cristo. E Dio ci ha creato questo rapporto diretto con Lui tramite Gesù. Gesù morrendo sulla croce ci dà la possibilità di parlare con il Padre tutti i giorni ed è quello che Gesù incarna perché voi sapete che c'è Gesù e c'è Cristo. Chissà, chissà che Cristo esisteva più di Gesù. Prima. Lo sapete? Non è che Gesù è nato solo, Gesù è nato duemila anni fa ma Cristo c'è da sempre. Cioè il figlio di Dio, la seconda persona della Trinità c'è da quando il mondo esiste perché Lui è Dio, prima ancora del mondo. C'è da sempre perché Dio c'è da sempre e esiste da sempre. È una cosa difficile da entrare nella nostra testa. Infatti i bambini quando noi li insegniamo e diciamo che il nostro papà è Dio loro poi diranno sempre ma il papà di Dio chi è? E Dio c'è da sempre quindi Cristo c'è da sempre. È Gesù che si è incarnato duemila anni fa e allora esiste da duemila anni. Cioè quando Dio si è fatto carne. Come è successo tutto questo? Quando è che è nato questo dominio nell'uomo della preghiera? Cioè Dio ci dice di pregare con uno scopo. Qual è lo scopo di pregare secondo voi? È commuovere Dio? No. Qual è lo scopo di pregare? Abbiamo già predicato su questo. Cosa succede quando tu preghi? Esercitiamo la nostra fede. In cosa? Esercitiamo la nostra autorità. Ogni volta che noi preghiamo noi esercitiamo la nostra autorità. Allora veniamo prima qua. Chi sa? Chi conosce la Bibbia? Sapete che la Bibbia è fatta da Antico e Nuovo Testamento? Anche se alcuni in Italia dicono voi siete evangelici e cosa leggete? E io rispondo la Bibbia. E dice ah no noi siamo cattolici leggiamo il Vangelo. E dico scusa una volta ho dovuto dire a un grande imprenditore e non voglio neanche fare il nome perché sarebbe una vergogna per lui. Perché è stato lui a dimmi questo. Ah noi leggiamo il Vangelo. Dico non dire a nessuno. Ma nella Bibbia c'è dentro il Vangelo. E anche i cattolici leggono la Bibbia in teoria. Ah. Perché l'ignoranza è tanta. Il nostro più grande nemico non è il diavolo, è l'ignoranza. Dì alla persona che è vicino a te. Il tuo più grande nemico non è il diavolo, è l'ignoranza. In Osea Dio dirà il mio popolo perisce perché il diavolo è cattivo. No. In Osea dice così. Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. L'ignoranza è il più grande nemico che noi abbiamo. Perché essendo ignoranti nelle cose spirituali noi mangiamo quello che ci danno. E diciamo anche che va bene. E mangiamo qualsiasi cosa. Quando siamo bambini mangiamo quello che ci dà la mamma. Ma quando noi cresciamo e quando c'è gente spiritualmente matura non mangia qualsiasi cosa. Amen. Prima di mangiare dici no no, quello che mi stai dando c'è qualcosa che non funziona. Allora la Bibbia è fatta da Antico e Nuovo Testamento. Cosa vuol dire Testamento? Tradotto. Alleanza. Patto. Allora la Bibbia parla di tre cose. Quali sono le tre cose di cui parla la Bibbia? Di un re di un regno e di un popolo. Tutta la Bibbia noi troveremo un re chi è il re dei re? Chi è il re del mondo? Dio. Dio è il re del mondo. Il diavolo regna perché noi gli abbiamo dato autorità ma il proprietario è Dio. Amen. E la Bibbia quindi parlerà di un re di un regno e di un popolo. chi è un re? Un re è un politico? Sì. Se tu pensi in un regno un re è un politico è uno che prende delle decisioni. Qual è la differenza tra un re un presidente o piuttosto un primo ministro? Che il presidente e il primo ministro non possono prendere delle decisioni da soli. Per fare una legge hanno bisogno di parlare con il Parlamento. Qual è la differenza invece di un re? Un re decide un re non chiede mai consigli a meno che voglia ma non è che lui è soggetto ai consiglieri. Amen. Per questo Dio è il re del mondo lui dà le regole. Non è così? E lui non deve chiedere consigli a noi però molti di noi trattano Dio come un presidente o come un primo ministro. Vi faccio vedere come. Dio dice così no all'adulterio e tu inizi a dire come a un presidente no ma secondo me in questo caso potremo. Cosa dice? Perché sai perché sono molto innamorato. Secondo me in questo momento cosa dice? E tutti gli altri eh no forse non si discute con Dio. Lui ha dato una regola una legge e noi siamo soggetti a questo. Allora quando una legge viene documentata nella Bibbia questo si chiama patto o testamento. Quindi quando noi leggiamo il nuovo testamento noi stiamo dicendo è il documento di un nuovo patto del regno di Dio. Lui ci ha detto come fare amen e noi abbiamo fatto un patto con lui visto che tu mi ami perché è lui che ci scegli qual è la differenza tra il presidente il primo ministro e il re? Che tu non puoi decidere chi sarà il re. C'è il re e poi c'è il figlio del re e poi c'è il figlio del re. C'è una successione. Non è che noi decidiamo votiamo Gesù è Gesù che vota noi amen è lui che decide io voglio che tu sia con me non siamo noi che decidiamo che lui sarà con noi lui sarà il re a prescindere della tua decisione Dio è e regnerà nel mondo sia che tu lo desideri sia che tu non lo desideri ma lui sarà sempre il re amen e quando lui comanda una cosa questa cosa è e noi non dobbiamo molti continuano a fare questo gioco con Dio magari lui dice dobbiamo pregare sì signore però cosa ne pensi no no quello che Dio dice è e lui è il re poi lui parla di un regno cos'è un regno è una nazione quando dice quello è il regno del re X nella Bibbia vuol dire che quella nazione o quel territorio appartiene a Dio sì o no sì e poi lui parla di una famiglia reale di un popolo chi è il popolo è il popolo che vive in quella nazione quindi in quel regno regno quando Gesù viene sulla terra lui su cosa predica sulla chiesa dice venite tutti in chiesa domenica mattina alle 10 ci vediamo facciamo un po' di lode cantiamo ci abbracciamo ci vogliamo bene poi andiamo a mangiare una pizza predicherà il pastore amen è così che dice quante volte Gesù ha parlato di chiesa nella Bibbia due poi nel Nuovo Testamento noi troviamo i discepoli di Gesù parlando della chiesa della riunione chiesa vuol dire solo ecclesia che vuol dire un popolo insieme un'assemblea che si riunisce però lui non ha parlato di questo lui ha parlato di regno quindi ha parlato di una nazione santa Pietro dice noi siamo un sacerdozio regale la nazione di Dio il suo popolo quando noi sentiamo nell'Antico Testamento e anche nel Nuovo Dio che dice il mio popolo lui sta parlando del popolo che vive in quel regno quando Paolo dice così dice noi siamo ambasciatori di Cristo in questa terra che cosa sta dicendo che noi apparteniamo a un altro regno e noi portiamo Cristo in questo che è mai stata un'ambasciata se oggi è festa in Francia l'ambasciata è aperta o chiusa perché non è nel territorio italiano ma quali sono le leggi che regolano l'ambasciata le leggi della Francia infatti Paolo dirà voi siete ambasciatori di Cristo perché perché dal momento che avete Cristo nella vostra vita voi appartenete a quella nazione potete essere in Italia in Francia e la cultura che influenza la nazione la cultura del cielo non dell'Italia non del Brasile non della Cina non dell'Argentina uno magari dice ah sì noi non preghiamo una questione di cultura non ci hanno mai insegnato a pregare cambia cultura perché la Bibbia dice che tu devi pregare amen ah lo so è vero magari in Sud America c'è tanta gente che ama Dio noi una questione di cultura ciccio cambia la tua cultura la tua cultura la cultura del cielo dal momento che Cristo è entrato nella tua vita non conta più se sei italiano infatti Paolo cosa dirà non c'è più greco giudeo non c'è più niente c'è solo un popolo che ama Dio c'è solo coloro che sono in Cristo punto non c'è più differenza razza infatti cosa dirà che verranno a lui ogni tribù razza non importa più da dove vieni non importa che tu vieni dal cielo perché tu sei in Cristo Gesù amen allora nel capitolo 1 della Genesi vai là nel capitolo 1 della Genesi nel verso 26 Genesi 1 26 Dio disse facciamo l'uomo la nostra immagine conforme alla nostra somiglianza e abbiano dite com'è abbiano dominio sui pesci sui mari sugli uccelli del cielo sul bestiame su tutta la terra e su tutti i retili che strisciano sulla terra quindi Dio cosa ha deciso che l'uomo avrebbe avuto dominio quindi Dio dice io voglio che l'uomo domini io voglio che l'uomo governi insieme a me il mondo io voglio cosa Gesù ha insegnato nella preghiera che la tua volontà come è fatta nel regno dei cieli sia fatta in questa terra il cielo è la nazione di Dio e chiunque è in Cristo è una nuova creatura ed è e diventa un cittadino del cielo allora la preghiera è che come tu governi la signore tu possa governare anche qua su questa terra quindi Dio ha creato dei meccanismi legali delle leggi infatti noi abbiamo le antiche leggi che chiamiamo antico testamento antico patto e poi noi abbiamo le nuove leggi leggi fatte in Cristo non abbiamo le leggi fatte in Cristo per esempio avete udito occhio per occhio dente per dente ma io vi dico se qualcuno vi da uno schiaffo da una parte voi date l'altra guancia è una nuova legge fatta di un nuovo patto nel regno di Dio quindi è come se Dio avesse riformulato tutte le leggi in Cristo pastore perché stai dicendo tutto questo se vuoi parlare della preghiera appunto perché voglio insegnarvi che pregare ha che fare con usare autorità spirituale davanti al re dei re Dio ci ha dato dei diritti Dio alla persona che è vicino a te Dio ci ha dato dei diritti e ci ha fatto delle promesse non è così? per esempio lui ha detto se tu perdoni sarai perdonato allora se tu non perdoni lo sapevate questo? chi vuole essere perdonato da Dio sempre? chi vuole che qualsiasi cosa noi facciamo sbagliamo la grazia e l'amore di Dio sia su di noi? ho una brutta notizia da darti se tu hai il cuore legato con delle persone che non hai perdonato Dio non ti perdona e senza il perdono di Dio tu perdi la presenza di Dio non riesci più a entrare alla sua presenza non riesci più a sentire Dio nella tua vita e non riesci più a ricevere la grazia di Dio perché non riesci più ad andare nel suo tronno amen ecco perché Gesù cosa ha fatto? ha comandato il perdono non ha detto scegliete ha detto perdonate 70 volte 7 signore mi hanno fatto continuo a perdonare Dio io piango continuo a perdonare perché l'ha fatto? perché il perdono libera il cielo di là il tuo amico il perdono libera il cielo c'è tanta gente che non sa dice ah ma io prego a me non succede niente appunto prima di portare la tua offerta al Signore se sai che tuo fratello ha qualcosa contro di te vai prima del tuo fratello aggiusta te e lui lasciala all'offerta poi vieni e la porti cosa sta dicendo Dio? che lui non interessa neanche della tua offerta se tu non hai perdonato tuo fratello perché non servirà a nulla lui è il proprietario dell'oro e dell'argento è vero che noi dobbiamo dare investire nel regno di Dio nelle cose di Dio perché lui ci ha dato con la gratitudine che ci ha dato ma Dio non ha bisogno dei tuoi soldi neanche dei miei amen lui è il proprietario dell'oro e dell'argento ma lui dice se tu vuoi offrirmi qualsiasi cosa il tuo cuore i tuoi soldi la tua casa la tua disponibilità il tuo lavoro ricordati se non hai perdonato io non accetto quello che tu mi porti questa è una regola del regno del nuovo patto amen sì nel nuovo patto c'è questo ci sono altre regole per esempio Gesù dice che noi dobbiamo amare i nostri nemici ed è una regola che lui ci ha messo là nel nuovo patto che ha fatto con noi però ci sono anche dei diritti in Cristo Gesù noi siamo stati guariti per le sue levidure noi siamo stati guariti è stampato là quindi quando io sono malato non devo piangere ma devo alzare la mia mano e dire Signore io prendo possesso del mio diritto di guarigione nel nome di Cristo Gesù e la ricevo oggi amen guarda un altro passaggio Matteo 16 mi state seguendo Matteo 16 noi troveremo qua dal verso 17 iniziamo dal 13 dove dice così poi Gesù giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo domandò ai suoi discepoli chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo e si risposero alcuni Giovanni il Battista altri Elia altri Geremia uno dei profetti ed Eli disse loro e voi chi dite che io sia e Simon Pietro rispose tu sei Cristo il figlio del Dio vivente Gesù replicandoli disse tu sei beato Simone figlio di Giona perché né carne né sangue ti hanno rivelato questo ma il padre mio che è nei cieli e anche io ti dico tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'Addes non la potranno vincere io ti darò le chiavi dite come le chiavi le chiavi del regno dei cieli tutto ciò che legherai in terra sarà legato e nei cieli e tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli e poi ordine ai discepoli di dire questo un passaggio molto mal interpretato perché pensano c'è un gioco di parola Petrus e Petras dove gli stai dicendo tu tu Pietro sei una pietra e su questa pietra non su di te sulla pietra io edificherò la mia chiesa qual è la pietra? è quella rivelazione che lui ha avuto chi dite che io sia? tu sei il Cristo l'uomo più ignorante dei dodici non sapeva né leggere né scrivere niente ha avuto la rivelazione infatti Gesù ha detto il padre ti ha dato questa rivelazione come per dire Pietro tu da solo solo il padre poteva dirti questa cosa non hai mai solo il padre e lo guardi e dice il padre ti ha dato questa rivelazione wow e tu Petrus tu che sei una roccia su questa pietra Petras io edificherò la mia chiesa sulla rivelazione è che Gesù è il Cristo il figlio di Dio ogni persona che crede che Gesù è il Cristo figlio di Dio appartiene alla chiesa di Gesù è su questo che noi cambiamo la vita non su una persona come fai a sapere che questo è giusto perché nella lettera di Pietro lui dirà lui stesso dirà noi tutte usando la stessa parola nel greco siamo delle Petras viventi nella chiesa di Dio noi tutti siamo ognuno pietre nel tempio del Dio vivente però che cosa dice qua la parte più importante io ti darò le chiavi del regno dei cieli cosa abbiamo detto che era un regno una nazione dove c'è un re e questo re ha un popolo e sta parlando che questo regno inizia nei cieli amè allora tu hai una casa chi ha una casa fitata alcuni cercano se io ti do le chiavi di casa mia ti do le chiavi di casa mia io che cosa ti sto dando autorità infatti ha detto quello che scioglierai sarà sciolto quello che legherai sarà legato noi usiamo molte volte questo per parlare dei demoni invece non ha che fare con demoni la parola è proibire liberare stai dicendo Pietro quello che tu e chiunque ha avuto questa rivelazione proibirai sulla terra io proibirò in cielo guarda che grande che è questo e quello che tu scioglierai sulla terra io sulla terra libererò sapete cosa vuol dire questo che dipende da noi come sarà l'Italia dalle persone che hanno autorità noi abbiamo le chiavi della casa di Dio cos'è che hai tu le chiavi del regno della nazione allora io ti do le chiavi e quando ti do le chiavi di casa mia cosa ti sto dando autorità per entrare amen e posso anche dirti guarda qualsiasi cosa tu farai in casa mia per me va bene qualsiasi cosa tu deciderai di non fare per me va bene che cosa ti sto dando autorità cosa ha dato Dio nelle mani della chiesa quel giorno autorità chiavi allora voglio farti questo esempio tu arrivi in casa mia e hai dimenticato le chiavi come fai ad entrare cerchi le chiavi mi chiami pastore c'è qualcun altro che ha le chiavi di casa tua perché io non ho le chiavi facciamo che tu ti metti a piangere davanti alla porta così apriti io ho già fatto dimenticando le chiavi non funziona perché le ho dimenticate apriti ti prego si aprirà no questo è quello che noi facciamo molte volte nella preghiera noi preghiamo così signore aiutaci ma lui non ti aiuta perché lui ti ha dato autorità per aprire per legare per slegare altri fanno delle dolce parole signore ti amo aiutami o fai la faccia languida tu mi conosci però se tu fai questo davanti alla porta di casa mia lei non si aprirà lo stesso porta portina amore mio apriti dai che ti voglio bene ma avrai sempre bisogno della chiave per aprire e la chiave è autorità ecco perché la preghiera è un esercizio di autorità io entro alla presenza di Dio prendo le chiavi che lui mi ha dato l'autorità e decido nel nome di Gesù Cristo io cammino per le strade di questa nazione e inizio a dire io proibisco che ci sia prostituzione nella mia nazione io proibisco io non voglio io leggo questa azione nella città dove abito e la Bibbia sta dicendo che se la chiesa farà questo il cielo comanda la terra wow non è meraviglioso non è fantastico e vi voglio far vedere un altro passaggio Luca capitolo 18 chi conosce la storia della vedova e del giudice tutti la signora insistente la Bibbia dice che questa donna va davanti al giudice iniquo troverete la nel capitolo 18 proposi ancora loro una parabola per mostrare che dovevano pregare sempre e non stancarsi dite come pregare sempre e non stancarsi perché Dio ha detto sempre e non stancarsi perché a volte noi ci stanchiamo sapete perché ci stanchiamo perché vogliamo vincere al suono delle parole mentre quando noi esercitiamo la nostra autorità esercitiamo la nostra autorità noi sappiamo che lui ci ascolterà e dice così in una certa città vi era un giudice dite com'è il giudice cosa fa un giudice? cosa fa? leggifera decide in base a cosa? a una legge non può decidere da solo può decidere da solo a casa sua ma quando si tratta di un regno o di una causa civile o criminale lui usa cosa? cosa applica? la legge in una certa città vi era un giudice che non temeva Dio e non aveva rispetto per nessuno in quella città vi era una vedova la quale andava da lui e diceva rendimi giustizia sul mio avversario allora perché quella donna è andata dal giudice? perché tu puoi andare allora noi andiamo tutti insieme davanti a Palazzo Marino cosa andiamo a fare? a dire beh noi ci vogliamo una chiesa perché lo facciamo? perché c'è una legge in questa nazione dove dice che se tu hai più di 300 persone che si riuniscono insieme la città dovrebbe darti un luogo di culto se non diceva questo nessuno ci andava con che cosa vai? con la legge se tu ti metti a piangere davanti al giudice il giudice ti dirà così senta sospendiamo per 15 minuti lei smetta di piangere e poi venga qua perché il pianto non cambia la legge amen e lei va davanti al giudice e dice così egli per qualche tempo non vuole farlo ma poi disse fra sé benché io non tema Dio e non abbia rispetto per nessuno pure poiché questa vedova continua a importunarmi le renderò giustizia gli ha detto gli farò un favore? no perché la vedova non andava là a chiedere un favore lei andava là a chiedere un diritto ecco perché Gesù ha usato questa parabola amen lei andava là a chiedere un diritto e diceva è il mio diritto che il mio figlio abbia giustizia ma lui non importava perché non temeva nessuno e diceva faccio giustizia a chi mi pare e ha detto le renderò giustizia non ha detto gli farò un favore non ha detto l'aiuterò non gli ha detto chiuderò un occhio ha detto le renderò giustizia perché lei andava ogni giorno a chiedere i suoi diritti Dio dice io vigilo sulla mia parola per portarla a compimento ogni volta che tu entri davanti al giusto giudice prendi i diritti della legge del patto del nuovo testamento il patto di grazia che Dio ha fatto con noi e dichiaralo di signore tu hai detto che è il mio diritto da quando io sono in Cristo Gesù di avere prosperità io vengo a rivendicare e a reclamare un nuovo lavoro per me che cammino in Cristo Gesù amen non è fantastico è inutile che tu piangi allora se tu vai contro la legge in genere cosa fanno? ti tolgono dalla società se invece obbedisce la legge puoi avere i benefici della legge non pensiamo alla nostra nazione che non funziona tutto così però in teoria è così amen ma noi non viviamo sulla grazia sì il patto la nuova legge il nuovo patto il nuovo testamento è il testamento della grazia dove Dio stende grazia su di noi ma ci sono alcune cose alcuni diritti legali che lui ci ha lasciati guarigione liberazione e in questo passaggio guarda cosa continua a dire verso 6 il Signore disse ascoltate quel che dice il giudice ingiusto Dio non renderà giustizia dite com'è giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a lui tarderà nei loro confronti io vi dico che renderà giustizia con prontezza ma quando il figlio dell'uomo verrà troverà fede sulla terra cosa sta abbinando Gesù? la fede alla preghiera chi crede nella nuova legge è gente che esercita i propri diritti lo esercita pregando perché lui ha detto vi faccio una parabola vi racconto perché possiate capire che è importante pregare incessantemente e poi dice ma quando tornerò io troverò fede sulla terra e quindi lui mette insieme la fede con la preghiera la preghiera è più importante della predicazione è più importante di cantare la preghiera è il tuo modo di relazionarsi con Dio ogni giorno e che cosa mentre ascoltavo che Gesù non aveva mai pregato con i suoi discepoli cosa pensavo dicevo cosa ha incuriosito i discepoli fino ad arrivare a Gesù e dire ci insegna a pregare è semplice hanno visto la potenza hanno capito che la potenza veniva dalla preghiera passava quattro ore con il padre e cacciava via i demoni in due minuti noi non troveremo mai nella Bibbia Gesù che prega per più di cinque minuti per qualcuno potete trovare la non c'è uno dice ma io anche a me è già capitato sei là a comandare via i demoni e non escono infatti anche i discepoli hanno fatto questo hanno comandato i demoni di andare via e non andava via esci e non andavano via vai via e non andavano via non c'era modo tutti insieme potete immaginare arriva Pietro che dice dai dai tutti fuori voi non avete capito niente faccio io adesso esci e il diavolo che diceva no allora magari l'altro diceva Pietro faccio io che ho un cuore più morbido e andava Giovanni dicendo dai esci e il diavolo diceva non ci penso nemmeno allora arrivano da Gesù e dicono ce la facciamo oh non vai via e Gesù li guarda e dice esci da costui e i demone e dicono signore come mai noi abbiamo pregato e non è successo niente e tu arrivi e lui ha detto ci sono certi demoni certe forze spirituali dove avete bisogno di preghiera e di giuno per farlo usare la vostra autorità spirituale e abbandonare le cose della carne essere consacrati a Dio comprendere da Dio essere pieni di Dio per avere più autorità amèn allora io mi immagino che vedevano i risultati e il succo è quanto più tempo passo con Dio meno tempo dovrò passare con gli uomini non è meraviglioso non è fantastico quante ore hai parlato a quella donna perché quella donna smettesse di avere i suoi problemi cinque ore a volte noi passiamo ore a parlare con la gente no ma mio marito ma mia moglie ma la mia depressione ma che incubo ma che tristezza ma il mondo cinque minuti quando noi abbiamo una vita potente di preghiera noi arriveremo davanti a queste persone e velocemente avremo la soluzione di Dio per loro amèn ieri la Raffaella c'è la Raffia oggi non c'è e dei bis sono venuti a prendermi con la jazz in aeroporto e lei ha detto pastore non ti ho raccontato bene ma abbiamo fatto il ritiro dei giovani è stato così bello guarda subito avevo guardavo i ragazzi avevo delle parole come se li conoscessi avevamo tutti insieme delle rivelazioni e mi ha detto pensa ho solo digiunato per tre giorni per questo wow c'è una enorme differenza quando noi preghiamo e digiuniamo amèn c'è stato un culto solo qualche tempo fa dove non c'è neanche stata la predicazione chi si ricorda di questo culto la gloria di Dio era qua sapete cosa è successo perché io ero giù e stavo salendo in macchina e abbiamo pregato per tutto il viaggio da Roma fino qua per il culto siamo arrivati al culto non ho dovuto neanche predicare il cielo era aperto da subito perché il mondo sovrannaturale esiste e noi lo smuoviamo usando la nostra autorità in Cristo Gesù amèn non è magnifico allora come mai nelle riunioni di preghiera noi troviamo quattro persone come mai quando noi diciamo guarda pregheranno gli uomini ogni martedì quanti eravate? dieci c'è un tempo di preghiera insieme quanto eravate? sei perché non avete compreso l'importanza della preghiera insieme in comune ma soprattutto alla presenza di Dio per voi quanto più tempo passate con Dio meno tempo dovete passare dal dottore dallo psichiatra dallo psicologo dal pastore sempre perché là davanti al trono di Dio noi riceviamo da Lui Gesù ha avuto bisogno di stare ogni giorno alla presenza di Dio chi siamo noi per non stare? Gesù passava ore parlando con Lui chi siamo noi per rifiutare questo momento importante se noi vogliamo cambiare la storia della nostra nazione noi dobbiamo essere uomini e donne di preghiera gente che conosce il suo trono gente che lo cerca gente che prega che intercede che cambia le cose con la preghiera ma non con la preghiera del pianto con la chiave amén signore il mio figlio non si converte ma così Dio io prendo autorità che Tu mi hai dato nel nome di Gesù io blocco le vie maligne che portano i miei figli lontani da Te io blocco le vie mondane che succhiano l'energia dei miei figli e io li libero nel nome di Gesù per conoscere la Tua potenza amén questa è preghiera questo andare davanti al giudice dire Signore Tu mi hai detto che se io credo se io e la mia casa crediamo noi saremo salvati noi vogliamo credere in Te Signore Tu hai detto che quando noi abbiamo un cuore stanco oppresso e affaticato cosa dobbiamo fare vedere televisione per 5 ore e rilassarci è così che c'è scritto quando siete affaticati oppressi infelici sedetevi davanti alla tv e guardatela ore 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 e ancora ore perché il telegiornale è il vostro pastore e il blockbuster vi aiuterà e nulla vi mancherà e passi ore davanti alla tv e anche io l'ho già fatto so com'è non stai bene non hai neanche voglia domandatevi perché è così difficile andare alla presenza di Dio tu sai che devi pregare ma dici no ma prima faccio questo no prima faccio un po' di ginnastica no prima vado di là perché è così difficile pregare non è facile per arrivare fino al trono di Dio ti succede di ogni e magari ti viene in mente così no legge un libro eh sì meglio meglio perché nel libro Dio mi parlerà nel libro allora legge non ti ha detto niente e poi ti dice eh dovrei pregare no 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 chiamala la tua amica digli di pregare con te insieme al telefono allora preghiamo ti senti un po' meglio però non è passato lo stesso allora dai leggi fai altro però solo quando tu andrai là ginocchia per terra e dirai Dio sto da cane aiutami d'un tratto il tuo cuore inizierà a cambiare perché è Dio che cambia la storia dell'uomo non è il libro non è il cugino non è l'amico tutta la brava gente che ti amano sicuramente ti vogliono bene ma non sono Dio la potenza della guarigione è in Lui per ogni cosa quindi tu prendi i tuoi diritti del regno e vai alla sua presenza guarda che cosa magnifica Dio ha dato l'autorità all'uomo dite come all'uomo ecco perché Dio stesso è venuto come uomo per poter morire per i nostri peccati non è pazzesco sapete che uno spirito non può vivere su questa terra senza un corpo Dio ha stabilito così sapete che Dio parla ma per vivere Lui ha bisogno di noi ecco perché la Bibbia dice che noi siamo il corpo di Cristo non di Gesù di Cristo perché lo spirito di Cristo abita in noi non siamo il suo tempio non è così che Dio ha stabilito questo toglie tutte le varie dottrine spiritismo gli spiriti che abitano che i demoni hanno bisogno di corpi per poter agire ecco perché cercano dei corpi sulla terra mi dirai sembra un film che hai già visto cercano i corpi sì è vero Gesù si muove attraverso di te anche il diavolo si muove attraverso gli esseri umani e Dio ha stabilito una regola ha dato autorità all'uomo quindi ha detto ok il diavolo ha fatto di tutto per rubare l'autorità all'uomo e l'ha rubata però già nella Genesi Dio ha detto così sai una cosa Satana là quando sono caduti prima caduta dell'uomo ha guardato e ha detto è vero che tu hai rovinato i piani che io avevo per l'uomo io gli ho dato libero arbitrio e lui ti ha ascoltato però ricordati dal seme di questa donna dello stesso essere umano che tu hai allontanato da me verrà un discendente che ti schiaccerà la testa ed è così che Gesù ha trasformato la storia Amen ecco perché oggi noi siamo il suo corpo vivente su questa terra Dio vuole che esercitiamo autorità camminiamo per le strade guardiamo le cose che non vanno bene accendi la tv c'è qualcosa che non va bene oh che horror che sporca la tv italiana alza la tua mano sulla tv italiana e inizia a dire nel nome di Gesù Cristo io reclamo una legge contro questi canali pornografici non voglio dover anulare tutti i canali della mia televisione per arrivare a casa e non dover vedere sesso sempre sulla televisione Dio io prego oggi io leggo questo libero una legge sulla terra contro queste cose nel nome di Cristo Gesù amén e la legge verrà perché siamo noi che facciamo la legge che viene concludo solo raccontandovi una storia molti anni fa chi c'era si ricorda c'erano tante prostitute soprattutto erano nigeriane nella circonvalazione di Milano chi si ricorda pieno una tale la prima volta sono andata io e la Dilson il marito di Alex il 24 di dicembre abbiamo preso dei piccoli panettoni abbiamo preso del latte caldo cioccolata calda e siamo andati a predicare il Vangelo a loro e c'erano così tanti che noi abbiamo iniziato a pregare chiedendo a Dio una soluzione non volevamo che la nostra città fosse invasa da questi tipi di peccato ma non volevamo nemmeno vedere quelle donne che venivano con l'inganno in Italia essere così maltrattate e sapete abbiamo iniziato a pregare così tanto che in quel momento chi si ricorda hanno inventato una legge per togliere dalla strada la Caritas con noi noi un prete della Caritas lui diceva voi prendetele e io trovo dei documenti e li aiuto abbiamo collaborato insieme per togliere allora la gente dalla strada ecco perché adesso sulla circonvaluazione non è più così pieno qualcuno cerca di venire ma c'è anche una legge perché perché c'è un popolo che sta pregando nessuno sa che siamo noi ma noi sappiamo perché noi abbiamo pregato per questo amen noi abbiamo pregato per dei luoghi che oggi nella tua città e mia oggi non ci sono più io mi ricordo piazzale Loreto locali a luce rossa noi siamo andati là abbiamo messo i piedi ragazzi eravamo avevamo io avevo 26 anni e ho detto io decreto nel nome di Gesù Cristo che non voglio più dei locali così in questa città signore grazie tu benedirai questa persona non voglio la maledizione ma io voglio che questo luogo falisca trova lì un lavoro migliore io decreto che qua ci saranno ristoranti o altre cose se tu vai là oggi c'è un ristorante e così con tanti altri luoghi se tu scopri la potenza che hai quando preghi sarai la persona che prega di più su questa terra amen noi vogliamo vedere il risveglio questa terra di missione ma ti voglio dire una cosa i luoghi dove vedono il risveglio che fa paura è il luogo dove c'è gente che prega sempre c'è gente che digiuna c'è gente che decreta c'è gente che cammina per le strade c'è gente che ha capito chi è in Cristo Gesù amen alzatevi chi sa chi è chi sa chi è di alla persona che è vicino a te tu chi sei si chiama l'identità del credente tu chi sei di alla persona che è vicino a te ma tu chi sei chi sei qual è la risposta qual è la risposta io sono figlio del Dio vivente rinato in Cristo Gesù ho il diritto all'autorità di Dio sulla terra lui mi ha detto di andare in giro per il mondo e quando vado mi ha detto di predicare il Vangelo ad ogni creatura dice che chi crederà sarà salvato e chi non crederà sarà condannato mi ha detto di imporre le mani sugli ammalati perché guariscono mi ha detto che parleremo in lingue nuove che neanche il veleno avrà dominio su di noi io sono figlio del Dio della Bibbia amen questo è cristianesimo indipendente di qualsiasi fede uno stia professando il cristianesimo in generale della Bibbia ogni cristiano rinatto in Cristo Gesù la potenza è già ogni cristiano rinatto in Cristo Gesù ha questi diritti e anche questa potenza amen però usa le tue chiavi e quando non ce l'hai più quando ti sei dimenticato come aprire cercale vai nella Bibbia che è il portachiave di Dio e inizia a leggerla e dire vediamo dove sono le chiavi per l'autorità vediamo dove sono le chiavi per aprire le porte al lavoro perché non ho lavoro in questo momento vediamo dove sono le chiavi per la guarigione ho perso le chiavi della guarigione qualcuno ha visto le chiavi della guarigione uno dice sì la Bibbia dice così che tu hai diritto in lui di ricevere il suo miracolo amen me la presti un attimo e apri le chiavi del regno nel regno di Dio la Bibbia ci dirà che il regno di Dio non è fatto solo di cibo di bevande ma è fatto di grazia gioia benedizione pace vivere in Dio è così alleluia adesso noi vogliamo fare due cose la prima pregare è iniziare a usare la nostra chiave amen è vero che mi puoi dire ah ma io ho usato la chiave non ho aperto la porta ho cercato di usare quella là Dio te l'ha data e tu la usi e dopo Dio nella sua casa decide quello che puoi fare e quello che non puoi fare ma alcune cose lui ha già detto che possiamo fare amen ho detto lega proibisce e libera quello che puoi e vuoi noi siamo un popolo meraviglioso non solo noi che siamo qua noi coloro che credono in Gesù come c'è scritto nella Bibbia tanta gente non sa perché non leggi perché ha la Bibbia a casa e non ha mai letto neanche una volta però leggi tutte le settimane grazia gioia Vogue Eva 2000 3000 5000 romanzi leggo un romanzo alla settimana leggi la Bibbia forza che il romanzo non cambia la tua vita non sono contro i romanzi è carino ma prima leggi la parola di Dio la tua vita è più importante dei tuoi sentimenti amen chiudiamo i nostri occhi parliamo con lui Signore Dio noi ti lo diamo noi vogliamo ringraziarti oggi alziamo le nostre mani per dirti grazie la Bibbia dice di entrare alla tua presenza con ringraziamento io non so che cosa tu stai vivendo però ricordati ringrazialo lui ha sempre il controllo della nostra vita non ha perso il controllo della tua di lì grazie grazie che tu ci sei grazie che sei un Dio meraviglioso grazie che mi hai dato potenza e rivelazione e io ti lodo per questo e ti cerco in questo momento senza stancarmi con un cuore sincero grazie che tu sei un Dio che non dimentica non ti sei dimenticato di me Dio non ti sei dimenticato della mia causa tu non sei un giudice iniquo tu sei un giusto giudice e io so che sei pronto a farmi giustizia questa mattina perché mi ami perché mi vuoi bene tu conosci la mia storia tu sai le cose che stanno succedendo nella mia vita tu sai Signore che alcuni sono qua con un cuore lacerato preoccupato ferito alcuni lasciati abbandonati alcuni con un dolore incolmabile solo tu solo tu li puoi guarire noi oggi davanti al tuo trono ti ringraziamo con semplicità di cuore ti diciamo grazie e ti chiediamo scusa Dio ci hai dato un regno pieno di ricchezze e noi viviamo come dei poveracci senza padre senza re viviamo lamentandoci e piangendo su noi stessi dimenticandoci che tu sei un Dio magnifico e la tua benedizione è grande per noi noi siamo qua per adorarti tu conosci la nostra storia tu conosci anche tutte le nostre debolezze e noi noi non vogliamo venire meno signore anche se a volte ci capita vogliamo tenere gli occhi in cielo e ricordarci della potenza che hai messo nelle nostre mani ma alcune volte siamo confusi e ti chiediamo scusa perché nel momento in cui dobbiamo usare fede nel momento in cui è il momento di credere davvero in te e sapere che tu non dimentichi non abbandoni a volte ci sentiamo così e veniamo meno e ci domandiamo se davvero stai pensando a noi scusaci perché molte volte ci arrabbiamo con te mentre non c'entri niente siamo noi la nostra carne la nostra mancanza di fede che permettiamo al diavolo di giocare con la nostra vita ma ti chiediamo perdono a Dio dobbiamo aggiustare la nostra vita davanti a te continuiamo a dare delle scuse leggiamo la tua parola diciamo che è stata scritta due mila anni fa per agire come vogliamo ma dentro di noi noi sappiamo che tu dici la verità perché tu sei la verità per questo con tanta umiltà signore sapendo che senza di te noi non siamo nessuno ma con te possiamo fare grandi cose noi oggi entriamo nella tua presenza prendiamo le chiavi che un giorno tu hai messo nelle mani di Pietro dicendo Pietro sulla rivelazione sulla rivelazione che tu hai avuto io fonderò la mia chiesa ti do le chiavi oggi Dio sta dando le chiavi anche a te tu che hai avuto questa rivelazione lui è il Cristo l'unto di Dio per salvare gli esseri umani e il mondo chiunque sappia di questo nel suo cuore ha le chiavi in mano per aprire le chiavi servono per aprire e per chiudere aprire e chiudere aprire e chiudere aprire il cielo e chiuderlo aprire il regno e chiuderlo noi ti ringraziamo a Dio e vogliamo oggi chiederti nel nome di Gesù come tu ci hai insegnato in questo momento Padre noi chiediamo che ogni corpo malato riceva guarigione nel nome di Cristo Gesù tu ci hai detto che se siamo in te e le tue parole sono in noi possiamo domandare qualsiasi cosa oggi noi alziamo le nostre mani per chiedere giustizia a ogni causa ingiusta contro la nostra vita nel nome di Gesù per chiedere giustizia contro coloro che alzano la loro voce la loro bocca per condannarci e giudicarci perché noi ti amiamo nel nome di Cristo Gesù alziamo le nostre mani oggi Dio davanti al giusto giudice amorevole per reclamare la benedizione sulla nostra vita ogni benedizione in cielo è già stata deliberata il cielo comanda la terra inizia a chiedere a Dio adesso tutto ciò di cui tu hai bisogno inizia a pregare per il tuo corpo se è malato inizia a pregare per quel lavoro che non hai e inizia a credere perché Lui vuole che tu creda che coloro che sono in Cristo sono una nuova creatura figli di Dio aventi diritto di ogni sua benedizione se sei in Cristo Gesù oggi se il tuo cuore è libero nel perdono la Bibbia dice cerca il suo regno e tutto il resto arriverà cerca Lui la sua legge la sua grazia inizia a pregare per te stesso oggi nel nome di Gesù a inizia a pregare cercalo tra te lui soltanto puoi inginocchiarti puoi rimanere seduto in piedi ma cercalo prendi questo tempo per cercarlo prendi questo tempo per cercarlo lui è qua con le mani aperte per benedirti lascia le tue mani e ricevi digli Signore noi sappiamo che non siamo nessuno senza di te sappiamo che senza di te non abbiamo valore oggi ci siamo e domani non ci siamo come l'erba del campo anche se ci diamo tante arie basta una malattia basta un momento difficile prendere dei supereroi in nessuno ma noi sappiamo che quello che ci rendi forte sei tu e che siamo capaci di camminare anche nella valle dell'ombra della morte perché tu sei là con noi sappiamo Dio che siamo capaci di affrontare qualsiasi gigante perché tu sei con noi ed è per la tua presenza che noi siamo qua oggi nel nome di Gesù Cristo comandando ogni spirito di infermità, di povertà, di angoscia a ogni spirito che ruba quello che noi abbiamo e usa alcune persone contro di noi a stare zitti nel nome di Cristo Gesù noi siamo i tuoi figli io voglio dirti una cosa io sono certa che Dio farà giustizia per coloro che stanno vivendo delle situazioni ingiuste io sono certa che Dio conosce i nostri cuori lui sa coloro che camminano con lui e lui sa di coloro che solo dicono di camminare con lui noi ti adoriamo noi ti adoriamo Gesù noi ti adoriamo gli ubbidienti nel regno mangiano i frutti migliori della terra Isaia 1.18 tutto ciò che c'è di meglio in Italia Dio preparato per gli ubbidienti sapete cosa ho notato essendo in Brasile e ascoltando le predicazioni quanto il popolo italiano è ribelle quanto non sa obbedire Dio le autorità proposte quanto quando qualcuno ti vuole dare un consiglio sei sempre là con paura ma io voglio dirti che nel regno di Dio la cultura del regno è fatta di gente obbediente docile al Signore Gesù e alle persone che Lui ha stabilito Alleluia alza le tue mani con me così in segno di arresa e dili Gesù io sono qua e io ti adoro io credo oggi che tu supplirai ogni mio bisogno io credo oggi che ricevo il mio miracolo ricevo perché tu sei il mio Dio e tu lo hai detto non sta dicendo un uomo non sta dicendo il pastore Roslin tu nella tua parola hai detto che ho le chiavi per aprire un regno pieno di grazia di benedizione di amore di pace di benevolenza io prendo possesso di queste cose sulla mia vita questa mattina tocca il tuo corpo da dove sei malato dili io ricevo oggi per il diritto che Dio mi ha dato perché sono in Cristo Gesù la mia guarigione tocca il tuo cuore se sei tribolato se hai un problema con la tua casa usa la tua autorità soprattutto tu che sei sacerdote della tua famiglia l'uomo della famiglia dili nel nome di Gesù io proibisco che il diavolo rubi la vita ai miei figli io proibisco che il diavolo distrugga i piani che Dio ha messo nel mio cuore per la mia famiglia nel nome di Cristo Gesù inizia a dire io ricevo la tua guarigione Signore ricevo un cuore libero ricevo una mente libera vado a casa con la mia certezza che tu farai giustizia per me ricevo oggi quel lavoro che non riesco ad avere io ricevo oggi Signore io credo che durante questa settimana perché sto pregando perché ti sto cercando io già riceverò buone notizie anche in tempo di crisi perché tu hai preparato una terra di Goshen per me una terra dove sono protetto dalla maledizione del mondo nel nome di Gesù Dili Dili Dio io la mia casa ti serviremo io proteggo i miei figli proteggo mia moglie proteggo l'economia della mia famiglia io mi alzo con l'autorità del nome di Gesù e proteggo l'economia della mia famiglia non aspettare che le cose succedano decreta che succederanno nel nome di Gesù noi crediamo Signore noi riceviamo noi vogliamo già avere testimonianze vere serie Signore perché stiamo credendo non per forza non per potenza ma perché abbiamo fede nella potenza del regno di Dio che è qua fai la tua volontà in terra come tu la fai la in cielo allontanaci dalla tentazione non esporci l'addio non vogliamo vedere il diavolo faccia a faccia parlaci prima tu Signore provvedi al pane quotidiano per noi e il tuo nome sia glorificato innalzato onorato io santifico il tuo nome io parlo bene del tuo nome io dico che tu sei santo separato da ogni peccato perché tu è il regno tu è la gloria per sempre è un onore per noi essere in questo regno è un onore per noi appartenere a te Signore Dio grazie che tu ci hai scelti e noi abbiamo accettato ma lui ha dato diritto di diventare figli Giovanni capitolo 1 verso 12 solo a coloro che lo hanno accettato per questo ti invito oggi se tu sei qua oggi per la prima volta se sei già venuto altre volte e non hai mai accettato Cristo nella tua vita ti invito oggi a venire qua davanti ad accettarlo velocemente accettare Dio non vuol dire ma io credo già anche il diavolo crede questo non fa di lui un credente non vuol dire sapere che Dio esiste vuol dire Signore io accetto che tu entri nella mia vita che tu cambi la mia storia che tu partecipi della mia vita in tutto non solo nella Pasqua nel Natale quando hai bisogno io accetto che tu partecipi all'educazione dei miei figli e alla mia vita economica io accetto che tu partecipi che tu sia con me in tutto quello che faccio che ho se tu non hai mai fatto una preghiera così vieni qua davanti oggi noi vogliamo pregare per te vogliamo pregare perché tu diventi figlio di Dio figli di Dio si diventa accettando Gesù lui ha dato il diritto puoi aprire la tua Bibbia se hai una se no puoi chiedere in prestito Giovanni capitolo 1 verso 12 Vangelo di Giovanni ha dato il diritto di diventare figli solo a coloro che l'hanno accettato che non sono nati da carne ma dal sangue di Gesù dallo spirito di Dio lui ha lasciato il suo sangue per noi per questo se c'è qualcuno che non ha mai fatto una preghiera così se tu non hai mai fatto una preghiera dicendo io voglio che tu entri nella mia storia esci dal tuo posto e vieni qua davanti a permettere a Dio di entrare nella tua storia davvero ah ma lui non entra nello stesso no lui ti ha dato il permesso ti ha dato libertà ecco perché la Bibbia dice io sono la porta e busso se tu apri io entro 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 per questo esci dal tuo posto e apri questa porta perché lui entri oggi invitalo ad essere il signore della tua vita permettili di essere il proprietario della tua esistenza e della tua storia non ci interessa quello che dicono le persone una buona notizia per te davanti a Dio ti presenterai da solo non ci sarà l'amico che ti ha portato qua il marito il cugino per questo non badare a quello che pensano gli altri l'importante è quello che pensi tu e quello che Dio fa nel tuo cuore la fede è qualcosa di molto personale è molto intimo non si fa insieme quando sei nel tuo matrimonio fai le cose insieme condividi hai scelto di stare insieme ma con Dio è una cosa tra noi e Lui ognuno si presenterà da soli non potrai dire ma sai avevo vergogna avevo mio cugino che mi prendeva in giro guarda tuo cugino e dile puoi anche prendermi in giro ma io oggi apro le porte del mio cuore al regno dei cieli e il regno dei cieli entrerà nel mio cuore e io vivrò una nuova vita perché io voglio vivere con Dio non mi interessa che cosa dice il mondo con il mondo noi abbiamo vissuto tutta la vita e sappiamo che non funziona lo sappiamo bene tutti noi sappiamo bene che non funziona adesso apri il tuo cuore e dai la tua vita a Lui permetti a Gesù di fare la differenza nella tua storia non è mai troppo tardi e oggi è il giorno che Dio ha fatto per noi chiudiamo i nostri occhi insieme voglio solo dirti questo non aspettare un'altra volta vieni oggi la Bibbia dice oggi è il giorno della salvezza oggi tu sei qua non sei venuto settimana prossima forse tornerai ma noi non sappiamo che cosa succederà settimana prossima approfitta oggi che tu sei qua ad avere il coraggio di dire Dio cambia la mia storia e Lui lo farà perché Lui lo vuole fare io oggi sono qua perché un giorno ho fatto questa decisione la prima volta che sono entrata in un luogo come questo ero dietro una colonna a ridere e dicevo questi qua sono strani alzano le mani dicono che la Bibbia dice fuori quella è stata l'ultima volta che ho detto quello perché sapete Dio è molto simpatico io me lo vedo che guarda e dice ah sì allora diventerai il capo di loro ah sì allora sarai più folle di loro perché io confondo la sapienza dei sapienti quello che per te è follia per me è vita eterna quello stesso Dio ha cambiato la mia vita e io non ho riso più l'ho amato con tutto il cuore chiudiamo i nostri occhi tutti insieme e facciamo questa preghiera prima di andare a casa è un momento molto importante molto serio stiamo decidendo di cambiare la vita wow Signore Gesù ripetilo là nel tuo cuore o a voce alta se tu desideri Signore Gesù io ti chiedo perdona per il mio peccato e io ti invito oggi a entrare nella mia vita io apro quella porta che solo io posso aprire la porta dalla mia libertà e ti accetto accetto che tu viva nella mia vita accetto che tu interferisca nella mia vita accetto che tu diventi il mio Dio e io il tuo figlio io oggi ti consacro la mia vita ho bisogno di te ho bisogno del tuo regno ho bisogno dei tuoi miracoli e io oggi te li chiedo chiedo tutta la grazia tutto quello che mi appartiene con te cambia la storia della mia vita togli la solitudine che consuma ogni essere umano guariscimi io credo che due mila anni fa su una croce tu sei morto hai preso sul tuo corpo tutta la mia malattia la mia maledizione la mia povertà l'hai distrutta sulla croce e oggi tu vivi io credo che sei risorto e che sei il mio re io oggi dichiaro che tu sei il mio re sei il signore della mia vita io oggi scelgo di seguirti di ascoltarti di ubbidirti per avere il meglio che tu hai preparato per me e entro nel tuo regno e divento un tuo figlio ti ringrazio Dio stendi la tua mano oggi su di me e cambia completamente la mia esistenza questa è la mia preghiera oggi la mia vita è tua parla che ti ascolterò signore noi stendiamo le nostre mani insieme su di loro noi preghiamo oggi nel nome di Gesù che tu porti guarigione nel loro cuore angosciato noi preghiamo oggi che tu trasformi la loro storia e la loro esistenza noi preghiamo oggi che la tua presenza sia sovranaturale nel loro cuore e ti chiediamo di liberarli da tutto quello che è un legame per loro da oggi riempili di te nel nome di Gesù alleluia date un abbraccio a queste persone che sono qua vicino Dio buono con noi adesso voi che siete venuti qua davanti potete andare con l'Adriana Adriana è quella ragazza là dietro alza la mano Adri lei vi dirà come continuare a seguire Gesù se volete leggere una Bibbia noi vi regaleremo una oggi se non avete ancora alziamoci tutti insieme e diciamo così grazie Signore perché tu sei il mio Dio sei il mio pastore e io non manco di nulla io ti adoro prendo le mie chiavi e avrò sempre le mie chiavi con me per aprire tutte le porte nel nome di Cristo Gesù io credo che la tua potenza è su di me e che per fede io prendo possesso di tutto ciò che mi appartiene nel regno di Dio decreto che sono libero guarito prospero e pieno di te nel nome di Cristo Gesù alleluia saluta la persona che è vicino a te alleluia grazie grazie a Dio grazie a voi grazie di cuore grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti